Sono particolarmente importante proprio in questa fase, che non è una fase che si torna alla normalità ed è tutto finito, ma è un dover continuare a programmare un intervento sociale che ci vedrà impegnati su tutti i fronti, quindi comune, imprenditori illuminati che ringraziamo, terzo settore, tutti insieme in una grande comunità verso una solidarietà che non deve essere assistenziale, ma deve essere di aiuto e di sostegno nel non lasciare le persone sole.